L'avvocato Vincenzo Laudadio ad Usbef Puglia, ormai la misura è colma, tant'è che in tre associazioni dei consumatori vi siete riuniti per dire basta allo strapotere incondizionato delle banche, soprattutto alla luce dei crack che ci sono stati. In questo momento perché i crack bancari, le situazioni di default, le situazioni di difficoltà degli istituti di credito stanno allarmando, stanno danneggiando ed allarmando oltre musura i risparmiatori. Purtroppo come nel esempio nel caso delle quattro banche Carichieti, Cari Ferrara, insomma quelle lì, il danno è già fatto. Con un provvedimento legislativo tanti risparmiatori che avevano depositato i loro soldi nella banca si sono visti dalla sera alla mattina a togliere tutto e ancora ad oggi non si riesce a capire in che misura potranno o saranno risarciti. Noi insistiamo perché tutti i risparmiatori abbiano tutto, sono soldi dei cittadini, soldi che sono depositati nelle banche, non sono soldi delle banche o dei vari CDA, sono soldi dei cittadini italiani, dei risparmiatori italiani. Crack che solitamente alla fine poi vengono gestiti dalle banche stesse. Una delle voci che comporta il perdite di bilancio o comunque sia riduzione di valore delle azioni o delle quote sociali è legata proprio ai crediti in sofferenza. La procura della Repubblica di Arezzo, proprio nel caso Banca Etruria, sta cercando di capire in che misura questi crediti a sofferenza erano stati valutati e poi venduti poco prima del crack. Anche perché noi in Italia abbiamo purtroppo la memoria corta. C'è il caso del Banco di Napoli che negli anni 80-90 i soci del Banco di Napoli videro azzerate completamente tutte le loro azioni. Successivamente il Banco di Napoli fu ricapitalizzato, fu prima venduto a Banca Nazionale del Lavoro e di INA per poi ritornare a una serie di passaggi societari. Quindi arriverà al punto importante che ha recuperato il 94% dei quote perdi. Esatto. Il che vuol dire che non c'era motivo di andare in fallimento, di andare in default. Ora noi ci chiediamo quante banche oggi e in che misura fanno la valutazione dei loro crediti in sofferenza. Non sarebbe ad esempio ipotizzabile in presenza di una difficoltà del risparmiatore di procrastinare i tempi di rimborso del debito invece di portare quel debito in sofferenza? Ci sta l'attività di vigilanza che dovrebbe arrivare prima per raccorgersi del problema e invece spesso arrivano ormai quando la frittata è fatta. Le Banca d'Italia e Consov hanno la possibilità di chiedere informazioni e di pretendere risposte da parte dell'emittente al pari della polizia giudiziaria. Quindi non si riesce a comprendere per quel motivo ogni qualvolta succede uno scandalo. Parma, Lattecirio, Lehman Brothers non è ulteriormente sopportabile. Questi soldi sono soldi dei cittadini italiani che finiscono nel nulla o meglio i cittadini li perdono, non sappiamo che fine fanno. Questa è una misura non ulteriormente tollerabile in un periodo di estrema crisi economica, in un periodo di estrema difficoltà e in un periodo in cui, a seguito dell'introduzione della norma cosiddetta del bail-in, per cui anche direttamente i risparmiatori della banca che abbiano delle cifre superiori a una certa soglia partecipano poi all'eventuale default della banca, non è più possibile tollerare questa cosa. Pretendiamo che il legislatore distingua per legge la figura del risparmiatore da quella dell'investitore. Così come chiediamo che la profilazione del cliente, che è una norma attualmente esistente, affinché il risparmiatore che si reca in banca per acquistare dei titoli o dei prodotti finanziari sia, come posso dire, studiato, sia analizzato dal promotore finanziario o dal funzionario di banca per capire se quel prodotto è vendibile a quella persona. Non succeda come è successo per Banca Etruria, dove sono stati dati ordini veramente dissennati ai vari direttori di banca, no? Esatto, sta emergendo anche dalle indagini sempre della procura del direttore commerciale che aveva dato ordini ai responsabili di vendere queste azioni indistintamente. All'idea di questo che è ovviamente un reato penale, noi chiediamo invece che anche le associazioni di consumatori possano offrire il loro contributo e profilare esse stesse, non in sostituzione ma accanto alle banche, esse stesse il cliente. Così da paragonare la profiliazione fatta da un'associazione di consumatori con quella fatta dalla banca. Non potrebbe, non dovrà esserci differenza di valutazione ovviamente. Quanto questo problema incide sui pugliesi? Il credito non ha mai dimensione locale, il credito è globale, i soldi che io perdo da una parte si spostano dall'altra e così via. È ovvio che la raccolta del risparmio, sono ancora legato a questo termine che è nella Costituzione fin quando l'avremo, ma la raccolta del risparmio quando viene fatta a livello locale da banche di credito cooperativo, da banche popolari, come quella di Bari, come la popolari di Puglia e Basilicata, ha comunque sia un'incidenza maggiore di quella degli istituti di credito generali. Perché? Perché è legata molto di più al territorio, è legata molto di più alla piccola impresa. Noi siamo una nazione di piccole e piccolissime imprese, neanche di piccole e medie imprese, di piccolissime imprese, di imprese artigiane dove il rapporto con la banca vicino a casa, vicino alla bottega è ancora molto forte. Ora, mettere a rischio tutto ciò è davvero una scelta oculata o non è invece un passaggio per portare al definitivo default della nostra nazione? Restituire fiducia al credito in generale, inteso come banca che me lo eroga e come privato o impresa che lo richiede, io penso che sia fondamentale perché il ruolo delle banche è fondamentale nell'impresa, noi ce lo dimentichiamo, ma al tempo stesso non ci possiamo dimenticare che i soldi che sono nelle banche, come dicevo prima, sono nostri, non sono di nessuno. Faccio la domanda più difficile di tutte, dove investirebbe e dove assolutamente non investirebbe in questo territorio l'avvocato Laudadì? Io faccio un altro mestiere, io penso che sia giusto che ciascuno faccia il proprio mestiere cercando di farlo bene. Alle banche noi chiediamo di fare bene il loro mestiere, di consigliare per bene i propri clienti perché quello è l'unico modo possibile per aiutare un'impresa che ha bisogno di denaro. Io faccio l'avvocato e provo a dare i consigli più giusti che non necessariamente, non sempre coincidono ad esempio con il fare causa, per esempio. Non necessariamente, non sempre offrire un derivato, un prodotto strutturato ad un'impresa è la scelta migliore. La scelta migliore